musica 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 oggi erobrine sai che cosa ti diciamo va 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 culo quindi ragazzi è il momento di andare a uscire da quel brutto figlio di puttana quindi ragazzi le impostazioni dai giu bella raga li scassiamo tutti iscrivetevi commentate mettete mi piace bella raga se un bel pollice su un bel pollice su un bel pollice su come la bassa avete capito quindi andiamo se no con quale gesù è morti sennò a te vi leggerà molto srò maden vi leccherà buon ragazzi dai andiamo perché ero bright è un casino da uccidere si è brutto passo questo brutto presentimento che sarà un casino a uccidere se tirano aveva 730 di vita così avrò un milione 15 mila l'ho detto io e vabbè federico ti ho copiato ok va bene hai detto tu no allora l'ho detto io vedi tu non parli guarda federico che bella porta che è aperta sta laggando minecraft oh ragazzi io ho un computer di merda che qua non sta morendo come cazzo sei andato io seguo furetto furetto era dal ragno cazzo tutte quelle camere piene di mostri dobbiamo anche fare dobbiamo per lustrare per trovare qualcosa non le faremo noi non le faremo le paroi facciamo una cosa ragazzi due uccidono e uno per lustra io per lustro grazie no vaffanculo ormai l'ho detto tu hai la spada più ma dai per lustro io io non ho ancora per lustrato io sono attaccato ma è vero però io furetto sono scarso sono capace e poi io sento mouse tutto c'è pure la matura piena dai allora ragazzi furetto non ho la matura piena furetto non ho la matura piena furetto sono arrivato che stai facendo furetto che stai facendo furetto che stai facendo furetto mi hai dato dei campanitico me ne ho fatto adesso brutto allora sto episodio mi sta un po troppo silenzioso furetto furetto questo episodio fai qualcosa allora ragazzi oggi va tutto bene non c'è niente non è vero non va bene un cazzo furetto l'aga come la merda a te l'aga come la merda a noi no ok dai fate il tp raga io sono già arrivato ok oh raga ti distruggo ho già guardato io ma farò un cazzo no ho già guardato io e pulsati tu di qua sopra io non li contro no eh infatti io non li contro magari ci cadono tanto a vostra gosso magari non servono a niente oppure poi ce l'hanno un tesoro un'arma in testo eh madonna allora dai qua attaccate raga che io entro a per lo strano ecco questa cosa questa cosa qua no 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 oh seguitemi oh madonna continuato allora prima qua vai veloce proteggetemi dallo schietro anch'io controllo non c'è niente non c'è niente no no c'è una spada in pietra qua dentro c'è una spada in pietra c'è una spada in pietra eh qua che cazzo c'è oh qua dentro ragazzi raga qua dentro io apro vai qualcuno entri qualcuno entri dai che mi stai seguendo mi stai seguendo che cazzo c'è qua oh merda mi sono state chiudere qua dentro mi si è rotta la spada sii 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 due dietro due dietro ma stanno sparando uno dopo l'altro stai morti guarda qui a dietro quante casse che ci sono qua niente madonna uno storm non mi hanno cagato basta alcuni tutti da me vengono oh aiutatemi raga ma non nemmeno toccati io eh tutti niente oh ma non c'è un cazzo qua dentro un altro ma a te c'erano i mobi ma mi sono fiammi segnano tutti ammere lega mamma e bianca la carta ha lasciato un altro ma sta live la faccio� manuffalo che c'è un altro perché c'ha andato comunque c'è qualcosa niente ho una stazza piena di mol si non c'è un solo per farci perdere tempo è impossibile solo per farci perdere tempo no no è impossibile guarda quanta gente oh raga oh mi sono rotti io andiamo da aerobrine oh qua c'è qualcosa guarda chi ha il cd mica un cd dietro oh raga andiamo andiamo da aerobrine ce n'è uno dietro Federico sei inutile ti ho salvato il culo mi hai salvato il culo se sono morto oh ragazzi raga ascoltate un attimo perchè se parlate assieme viene un casino nel video quindi parlate una volta e poi uccidiamo il pigma e poi andiamo da aerobrine e basta perchè tanto non c'è un cazzo di ste cazze di merda non c'è un cazzo di ste cazze ha cominciato a colpire adesso ci sca... ecco mezzo cuore va bene a me colpisce mi sto dando aiutami merda dai furetto ce la puoi fare? dai furetto dai furetto dai furetto che io lo sto colpendo oh raga raga ho un piano ho un piano spingi entro giusto figli di puttana e dove cazzo è? rompi il vetro rompi il vetro rompi il vetro ok cazzo non ci avevo già spostato è troppo... oh una pepita toro una pepita toro una pepita toro mi è scoppiata quella cosa è scoppiata cazzo 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 stazzo ah era quel posto la si poteva salire anche da qua dai vabbè oh raga allora aerobrine era qua Puretto di merda mi hai coperto la visuale Oh 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 Scheletri ragazzi aiuto Scheletri a canzone Te trasportatevi da me Abbiamo trovato una cesta Con della merda dentro No questa la prendo Minchia più 260% di attacco Di danno d'attacco 260% Per un minuto e mezzo Porca troia Tienila per l'argo Tienila per cosa In che cesta l'hai trovata Non so mi ho trovato Ho detto vichia fede guarda c'è una porta qua Però non c'è un cazzo Qua erano 3000 mob Non c'è un cazzo Oh te trasportatevi da me Oh ragazzi mi è andata a Herobrine Ragazzi vi dico solo quello 20 minuti di durare l'episodio E' andata a Herobrine Sono già 7 minuti Muovetile Dai da Herobrine dai conducici Sì evite trasportate Perché guardate che cosa c'è davanti all'entrata Oh quanto c'è l'entrata Oh quanto c'è l'entrata Oh bastardo Dove ero già dietro Eh quello che ho ucciso a me Il bastardo pezzo di merda Mi mette cattola dietro E' appena ammazzato Mi sono teresopportato quando sei morto Tanto mi stanno beccando Trilliardo di geni Trilliardo di geni Una spagna in diamanti è nuova No è rotta Chi tanto? Eh quasi È rossi Dai ragazzi Uccidiamo un po' stessi figli di puttana Vai 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 Massacchiamo sti pezzi di merda Guarda riguarda Ci sono delle porte Chi è che va a controllare che cosa c'è? Dai uccidete quel cazzo di Cazzo ragazzi Come c'è qua dentro? Stai arrivando una roba Un roba Cazzo eh Uh Ho trovato qualcosa 150 Ma si stanno picchiando Medi Brutti Un po' sono diventato Mi do una botta Mi stanno Mi rompi coglioni Ma non si può rompere Ma che fregatura Che fregatura Un biscotto Una mela d'oro E una Me l'hai fottuta Come vuoi Oh sono entrato io qua Sei tu che hai fottuto a me Oh Non si può aprire Salcesse È bloccata per quella È tarocca No è che è bloccata Dal coso Dalla libreria Eh appunto È per quello Non si può rompere Dai oh ragazzi Andiamo dai Se no non ce la facciamo più Io lo so Ti siete? Oh Io entriamo eh Non vi rompere un canto No Tre Aspetta aspetta Arrivo Oh venti minuti che vi dico Ancora aspetta Stiamo guardando l'accesso Quello che non si prima Tre Due Uno Raga È il momento di entrare Ma che qua non c'è pulsante Aspetta un attimo Chi si Mi metto un attimo Io semmai in gamma in modo è uno Mi metto un attimo pulsante Ah non c'è Ma che cazzo Non ce l'ho sentito Che cazzo Che cazzo è Sshh Minchia che babbo Allora Ti Gamme Mode Uno No Com'era Due Questo qua Sì Intanto Non lo faccio Un cazzo Oh ma perché aspetta Io Così può Carmi No Oh dai Oh ragazzi Entrate Oh io apro Però entrate Vaffanculo Io non ce la faccio Eccolo lì Mi si chiude Perché Ero per C'ha della roba lì Ero per C'è il rescheletro C'è il rescheletro C'è il rescheletro Sì l'ho ammazzato adesso E' morto Ero per Non è erbo Ero per Ero per Ero per Appunto C'è il rescheletro Che sta sparando Bastardo di merda Passa Errescheletro Non è lui Errescheletro Ragazzi Bastardo Si risponono qua Dentro E' lui E' bastardo E' il rescheletro Sono morto Mentre combatteva Scheletro Vaffanculo Rescheletro Di merda Ecco Lo vedo anch'io Volevo vedere il parto A di vita E' freddo C'ero anch'io E' freddo C'ero anch'io Lo sai Mica è tornata Aterrita Quella la Aterrita c'è pure E' pure il rescheletro Mica Ma sono tutti qua Come cazzo Voglio sapere quanto Aero Oh basta Mi sta scassando Mi sta scassando Ah mi ha incendiato Bastardo Già già non bastava Quello che ti mandava A fanculo Col suo arco No a te E' pure incendiare Il pezzo di merda C'è una cazzo Di ragnaterra Pure la strega C'è C'è Ci sono tutti Oh è ucciso Va a fare Stai avvelenato La troia Dove stai Puttana L'abbiamo indetta Sarà terribile Mori Ti ha avvelenato di nuovo Fede Fede Guarda che cosa c'è F*** che fa male di dita Ragno aiuta Cazzo E' qua davanti La schede L'ha uccido La puttana La puttana Aspetta Stanno litigando Il ragno Con la strega Vaffa Mi voglio Potevi lasciarli litigare Merda Merda Deve morire Merda Mi sta attaccando Il ragno Quello bastardo Muore Bastardo di merda Vai il muretto A chiederti di uccidere La tua amica Puttana Perché Madonna Sì Puttana Crepa Male Sta per morire Il ragno Morto il ragno Ok Erobrime Madonna Quanto cazzo L'ha Erobrime Cazzo Ce la lascia E' gandata Quanto ha di vita Logu Eh lo so Mi sta laggando Non riesco neanche a muovermi Qua Troia Il ragazzo E' in questo cazzo Di computer Mi ha messo Slone La lentezza Dai ragazzi Ce la dobbiamo fare Dai Cazzo ce la com'è Mi ha ucciso Erobrime Teo Teo è stato ucciso Da Erobrime Mi ha messo Solo qua La puttana E' Pocca Ma La puttana Di me Non mi fa vedere Quanta Eccola E' A poco 80 80 Vai Dai ragazzi Dai ragazzi E' finito E' finito E' morto E' sgusciato via E' qua E dove sta l'angolo Dove sta l'angolo Stai che ti ha dato la tua vita Quanto ha E' non lo so Si Ok E' già morto E' troppo scarso Erobrime Sembra così forte Non ce l'ho Ma negli altri video Tiri sul chiave tutto Te l'ha dato il cd Si ce l'ho io E cosa poi altro Oh la sua ascia Porca troia Ah Ah Cosa Affilatezza 8 Sulla gira troppo di 2 Anathema 2 Sa che aggiungo lì subito a 10 Ha 15-18 di danno Madonna Fa parte del demonic set Ma te mi dai una Devo mangiarmela prima la mela guarda Minchia La mela ti ridà Tutta la mela al massimo Una cosa E due cuori di Cosa Questa qua Me la dai Tant'è mezzalotto Ok Aspetta Minchia guarda cos'ho No ho assorbizio assorbimento per un minuto e mezzo Oh l'ho contro lanciata Resistenza per quattro minuti e mezzo E resistenza al cocco per quattro minuti e mezzo Ma dove l'hai presa? Mi ho mangiato la mela Oh sti cazzo ischietto di mela Lo stiamo andando Lasciami Dove siamo qua? Io vi sarò una spada Segui Oh qua C'è portale per andare nel wicker Dai devo ammazzarlo che è un assorbimento e fare resistenza No 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 Non andare Non andare Non cazzo vale Mica guarda Attenzione Il boss è estremamente potente Voi siete andati fuorazzo Da che parte? Ok adesso Oh zitti un attimo Zitti che mi dovete ascoltare anche voi adesso Allora Oh Vieni ti chiedo un altro Allora comunque vabbè ragazzi Ve lo spiego a voi Se lo stanno a sentire Allora adesso Dobbiamo entrare qua Dove ci batteremo con il wicker Allora il wicker è estremamente potente Ve lo posso garantire Allora intanto qua Troviamo Victor Che ci danno la roba Prima di incominciare a combattere Non ci si sa Ci si dimentica Oh qualcuno può andare un attimo a casa Qualcuno può andare Allora puretto Esci un attimo da là E adesso ascoltami un attimo Vai se mai un attimo a casa Allora vai un attimo a casa Porta tutte le cose Le cose Le pepite Qua c'è la ender chest Eh appunto Metti tutto dentro la ender chest Metti tutte le pepite dentro la ender chest E poi torna qua Ti te la trasporti Ci sono dei libri che ho scritto Alla strategiavole in vita Si lo so Comunque adesso ascolta qua Allora Quindi ragazzi Adesso Fornato ci porta le pepite Ci compriamo tutto l'arsenale in diamante Perché è estremamente potente Io allora il coso ce l'ho Io il coso ce l'ho I pantaloni pure Io mi devo prendere solo l'elmetto No l'elmetto ce l'ho pure E io l'elmetto Io mi devo prendere Non c'è tutto Mi devo prendere solo Le pantofole e i pantaloni nuovi Le pantofole E i calzoni nuovi Calzoni nuovi Come li chiamano fuori Vabbè allora qua Ancora solo due minuti Qua possiamo appunto comprare la roba Mentre qua ragazzi In cambio porta anche Insomma è un po' di Ecco In cambio di una pepita Ci può dare forza 2 Sollicitazioni 2 Velocità 2 Più 260 di danno E più 40 persone di velocità Buono buono Aspetta ragazzi Torno qui Ti ho buttato il tuo telefono Perciò Vabbè fate un po' di vedere Aspetta Ok raga Butto il telefono È arrivato già Sì Sono andato Sono che è una merda Sti cazzo di visual Non so Le sti cazzo di pepite Di me Fede Fede guarda che abbiamo un lingotto Sì Trasformo l'incapita Cazzo di Dio C'è lingotto Aspetta che guardo Se Se non ci dà qualcosa Con l'ingotto Aspetta No Aspetta Sembra di no Eh però No Traformo l'incapita Vai Traformo l'incapita L'ingotto E' trasformati Sì Bella Bella Mi ha trasformato l'ingotto Grande Logu Bella idea Ci stai Logu Vatti che sto Sto fai Pettacolo Spettacolo Ok furetto Metti tutto dentro La ender chest Che pendo Metti tutto dentro La ender chest Lo sto facendo Ma li stai prendendo te Logu Cosa Stai prendendo te Un nugget Guarda Controlla L'hai preso tutto il telo Guarda Fai e Fidati C'è uscito la Fai e No non c'è C'è solo quello Guarda che Guarda qua 29 Questo che ho messo adesso Così Ma non ci sono qua dentro Non è cosa trasferisci all'altra Ender chest E poi la ender chest Quella che c'è sotto Nella casa Tutto il suo casino Addirittura Allora ho freddo Prendile Fai tp E vini qua Scusa Vai Fai tp E vini qua E ne metti Qua quanti ne hai 26 Metti ne 714 21 816 24 8 Nella cassa Fai due reparti da 8 Nella cassa Che almeno poi Ognuno se le prende Però devo prendermi ancora L'ho dato Sono già 18 minuti di video Solo quello ti voglio Ok Ok Metti qua 8 pepite Dentro alla cassa di legno 8 pepite per una 8 pepite per l'altro Ok 8 E sono mie 8 E su un biroguercio E poi Ok Adesso Ognuno si può comprare La sua roba Quello che più vuole Allora Io Raga C'ho tutto Vendo solo Prendere Io mi pio solo Ecco qua Io pio solo Questa qua Ah poi Se compriamo Igan Qualcosa Mi sembra Che la prossima volta Si dovrà potenziare Non so Finiti gli effetti Non ho potenziato 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 Ma io non lo sapevo Di questo Ognuno mi dava solo La vita E Quei cuori di Forza 2 Sto C'è lo 60% Il danno di attacco Più Minchia Aspetta un attimo Io me la prendo Questa 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 solo un attimo una cosa ragazzi perché io non ho la spada guarda cosa vende 4 smeranti allora fede entra dentro al portale un attimo si però prende l'ecchio entro qui io si però perché mi sembra quando sei uscito da skeleton tu sei nel guida entra un attimo perché sono me non ti porta alla guida sai che quando siamo andati da le schede troppo siamo spucati di là per me poi ti lascio dare schede guarda un attimo se ti ma c'è la guida è normale e allora aspettate fate tp appena aspettate fate tp e trasferitemi qua da me eccolo qua siamo arrivati nella guida ok raga aspettate ok fate tp ok aspetta dove è il maledetto buona ragazzi ci siamo siamo a cavallo in bocca al lupo dai ragazzi dai andiamo appena rinagio ci massacra di brutta maniera dove è andata cristo santo già scomincia oh sti cazzo di schede gli schede gli schede si che io aspetta ci lascia di aerobrani il carbone melato è una lacrima di gas con la lacrima di gas possiamo prendere l'arco da questo porca troia muori 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 si sporrono le pozioni qua si sporrono le pozioni tipo granate qua eh raga si eh no sono i suoi colpi ti spara guida non lo sapevi no stai qua le pozioni di guarigione oh ma quando ha fatto correre qui l'idea del cuore nero è sempre lento guarda guarda ci sono le cose tipo qui sono i miei luci oh ma te è quella cosa blu c'è tipo un aiuto che mi ha dato una stretta o forse ma è sì lo so lo so è la lanci e la granata come l'hai già fatta chiede l'hai fatto altro ragazzi mi sta massacrando quel bastardo ho passato un po' il volume ragazzi perché sto registrando col telefono vicino alla cassa e non vorrei va beh mi ha preso mi ha preso oh chi ha delle lacrime di gas me la può dare gentilmente io ne ho una solo una ma si cazzo di schetti non sparano più oh i schetti mi ha preso il panno no mi ha preso il panno no mi ha preso il panno no 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 cazzo 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 eccolo qua lo scherzo brutto 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 vai giù brutto merda merda mi sta colpendo con un bastardo maledetto brutto brutto ma cosa vuoi dire avvizzito 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 basta amiche mi sta scassando mi sta scassando mi sta scassando no mi ha ucciso l'unica anche a me ne scoppiato un altro cosa ossidianosico ossidianosico ma sei dicendo questi qua ma dai ma come ho fatto a morire oh io ho tre cose tre lacrime voi io ne due allora furetto dammele dammele qua ok bene non si è preso un battimento a dieci lacrime possiamo prenderci l'arco forte la ah quello la paura che cazzo è il witter non lo vedo più ecco l'abbè l'imbast è dal portale ma sacro oh cazzo ma non c'è forte che dà ma attenti dietro 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 porco diavolo l'ho ucciso ma sei sei no è ucciso il coso l'ho ucciso come cazzo hai fatto tutta la vita qua come cazzo fai mi sa che per forza bisogna comprare quell'arco due colpi che gli dai eh sì tre colpi è un cazzo secondo me e me lo schiede un po' beh scendere un po' questo cagame che a me è prima di una sacra guardami io sto facendo questo calcio di arco da un'ora ti cassa che mi avvicino sto calcio di scheletro di merda ecco che mi ha vincito ma donna ma se ti salzare in aria maledetto sto calcio di colpi fa è pericoloso è pericoloso raga mi hanno un attimo chiamato e penso che mi richiamino quindi mi hanno un attimo chiamato vaffanculo va dai avviso si mi hanno avvicito di nuovo mi hanno avvicito di nuovo brutto brutto dai basta uccidete sto cazzo di coso comunque oh raga siamo già a quasi mezz'ora di video eh io direi di fermarci qua dai allora ragazzi grazie per averci seguito questa qua è la battaglia logo con l'arco bella bella raga bella raga siamo contro il guiter ragazzi sta massacrando in una maniera siamo contro il guiter ragazzi quindi ci vediamo nel prossimo episodio dove uccideremo il guiter e questi bastardi se no se prima che si massacri e poi giù dove uccideremo il guiter e questi brutti fighi di di schede 3 i zuccolini i zuccolini i zuccolini ciao ciao